È a Villa Severi, ad Arezzo, nei locali messi a disposizione dalla provincia di Arezzo, la nuova sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È stato il presidente nazionale dell'Istituto Stefano Gresta, assieme a quello della provincia Roberto Vasai, ad inaugurare i nuovi uffici dell'Osservatorio Sismologico di Arezzo, il cosiddetto OSCAR. L'attività dell'osservatorio, come hanno spiegato i tre ricercatori, Riccardo Azzara, Thomas Brown e Marco Cacciagli, si articola attualmente su tre principali temi di ricerca. Lo studio della microsismicità dell'Appennino Centro-Settentrionale, la distribuzione e l'origine degli sciami sismici e lo studio degli eventi sismici passati attraverso l'analisi dei sismogrammi storici. Avevo già seguito quelle che sono le attività dei nostri ricercatori qua sul territorio che soddisfano pienamente quella che è la nostra missione. Ricerca, quindi comprensione dei fenomeni naturali, trasferimento al territorio di quelle che sono le attività anche di monitoraggio e sorveglianza. e poi l'azione di divulgazione e di educazione nelle scuole. L'avevo seguita attraverso la rassegna stampa, l'avevo seguita attraverso i colloqui con i nostri ricercatori. Arrivando qua oggi non posso che dire che c'è il nostro pieno apprezzamento per la sede, prestigiosa, bella, funzionale, e per l'impegno che la provincia continua a approfondire in questa collaborazione. Vediamo se ci saranno opportunità per incrementare quelle che è già una collaborazione estremamente profigua. Una collaborazione che è più che decennale, direi 15 anni che c'è una convenzione di collaborazione con la provincia. Io sono dell'opinione che è un patrimonio di questo territorio avere l'Istituto Aderezzo. Ci siamo fatti carico giustamente di ospitarli e insomma questa nuova sede è a loro disposizione perché continui questa collaborazione straordinaria fatta con la protezione civile della provincia, con la provincia andando nelle scuole, facendo capire come si fa prevenzione, ma direi come ci si comporta anche nel caso di terremoti, studio del nostro territorio. Insomma io credo che la provincia ha fatto il suo dovere rispetto ad un'istituzione che era Aderezzo e deve continuare ad essere e ad operare Aderezzo.